ecco siamo al pesce azzurro di fano questo è l'esterno del locale ecco c'è già una discreta fila per entrare questa è la zona d'ingresso qui c'è la fila siamo entrati qui all'interno del pesce azzurro questa è la fila per le cinque portate poi da quest'altra parte abbiamo la zona bar questa è la zona d'ingresso qui vediamo gli spillatori dove si prendono le bevande ecco con queste immagini dell'interno del pesce azzurro di fano terminiamo questo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti